Le previsioni sui consumi sono positive, le iniziative ci sono e persone che passeggiano nel centro storico anche, ma le spese per i regali di Natale a Rimini non sembrano essere partite. Secondo ConfCommercio, questo Natale è il primo dopo sette anni di crisi con un aumento del 5% della spesa media per i regali. Cibo, libri e smartphone sono i regali più acquistati dagli italiani, ma solo uno su tre ha già terminato gli acquisti. Ci sono sempre gli amanti del last minute, il 65% che trascorreranno questi ultimi giorni alla ricerca dei regali da mettere sotto l'albero, la speranza probabilmente anche dei commercianti riminesi. Al momento noi notiamo un rallentamento, non c'è questa corsa, questa frenesia che ci si aspettava, che poi dalle notizie sembrava anche che potesse essere un Natale un pochino migliore del solito, al momento non si è verificato, io parlo per noi chiaramente, però la sensazione è anche un po' generale, mi sembra. Noi siamo un po' particolari perché abbiamo una liquidazione per rinnovo locali, quindi i nostri clienti sono venuti, ma non so senza questa liquidazione come saremmo andati, noi i nostri colleghi ci stanno dicendo che non c'è movimento, al momento però noi ci stiamo difendendo. Gente in centro ce n'è, in piazza Cavour c'è il partinaggio del ghiaccio che ha fatto un bel lavoro, noi ci mettiamo del nostro e cerchiamo di far vivere questo centro. Bisogna fare dei parcheggi perché negli ultimi anni ne hanno tolti, io penso, di posti tipo 5-600 posti, li hanno tolti completamente. Una gestione un pochino più sentita dei parcheggi non darebbe fastidio perché queste nuove iniziative hanno portato poi un ridimensionamento di posti auto. Il centro storico sì, diciamo che lo stanno facendo bello, stanno cambiando molte cose, rinnovano l'arredo urbano, cose del genere. Il grosso problema è il parcheggio. Tutti concordi nell'apprezzare le iniziative e il restyling dedicati al centro storico, ma per la maggior parte il grande problema rimane la sosta dell'auto. Parere comune infatti che i parcheggi siano stati sacrificati per i lavori di riqualificazione e non sufficientemente sostituiti, anche se qualche voce fuori dal coro si trova. I parcheggi ci sono, ci sono, c'è il parcheggio Italo Flori, il parcheggio Scarpetti, c'è il parcheggio Settebello che in due minuti si è in centro. È chiaro che siamo tutti abituati a voler parcheggiare sotto il negozio, sotto la bottega, ma non è così. Quindi se uno vuole venire in centro sa che ci sono i parcheggi. Io quando vengo in centro in macchina, che lavoro in centro, vado a parcheggiare la macchina al parcheggio Scarpetti, pago i miei due euro per 12 ore e in quattro minuti sono in centro storico. Il discorso è molto semplice, quindi non prendi le multe, sei tranquillo e vieni in centro.